Alla fine del XIX secolo, l'impero ottomano, che solo tre secoli prima era una superpotenza mondiale, si trovava sull'orlo del collasso, superato dall'Occidente sia dal punto di vista tecnologico che economico. I suoi governanti, i sultani, vedevano sfuggire di mano gli antichi possedimenti in Europa e nel mondo arabo. Il movimento dei giovani turchi cercò di arrestare questo declino e, nel 1908, diede vita a una rivoluzione che rovesciò il sultano assoluto Abdul Hamid II, instaurando una monarchia parlamentare. I nuovi dirigenti commisero l'errore fatale di intervenire nella Prima Guerra Mondiale. Il 30 ottobre 1918, il governo sconfitto firmò l'armistizio di Mudros, un trattato che comportava di fatto lo smantellamento completo dell'impero. Nella penisola anatolica, abitata principalmente da una popolazione di lingua turca, le potenze vincitrici imposero la creazione di un'Armenia indipendente, la concessione dell'autonomia ai kurdi e una presenza greca nella traccia orientale e sulla costa occidentale dell'Anatolia. Le truppe francesi, britanniche e italiane occuparono diverse parti del paese, compresa la capitale Costantinopoli, e si parlava anche di trasformare la Turchia in un protettorato occidentale. Nonostante il logoramento provocato dalla Grande Guerra, i turchi si resero conto che quella nuova situazione metteva a repentaglio la loro stessa esistenza come popolo. L'occupazione straniera e la minaccia rappresentata dai greci, che nel 1919 avevano invaso la Turchia, generarono un fermento nazionalista in tutta l'Anatolia. Gli scontenti avevano solo bisogno di trovare un leader capace di unirli. A fornirlo fu il sultano Mehmet VI, succeduto al fratellastro Mehmet V, che a sua volta era subentrato al deposto Abdul Hamid II, il quale nel maggio del 1919 inviò nel sud-est dell'Anatolia un generale che si era fatto notare durante la guerra, in particolare per il ruolo svolto nella battaglia di Gallipoli, una delle poche vittorie ottomane. Mustafa Ataturk, soprannominato Kemal, il perfetto, ai tempi della scuola. Il governo del sultano si affidò a lui per riportare la disciplina nell'unico esercito ancora funzionante di tutto l'impero. Kemal aveva altri piani. Pochi giorni dopo essere sbarcato nel porto di Samsun, sul Mar Nero, decise di abbandonare la sua missione originaria e di assumere la guida della resistenza militare contro l'occupazione straniera. Una coalizione di forze ribelli istituì un governo provvisorio sotto la sua guida, che stabilì la propria sede ad Ankara, una piccola città nel centro dell'Anatolia. Da lì Kemal condusse per quattro anni una lotta instancabile mirata a consolidare il territorio della nazione turca. Nel nord-est sconfisse gli armeni, sottraendo loro importanti territori. Gli italiani e i britannici accettarono di ritirarsi. I combattimenti più intensi furono quelli contro i greci, che nel 1921 decisero di avanzare verso Ankara. A 80 chilometri dalla città, sul fiume Sacaria, Kemal riuscì a sconfiggerli in una battaglia decisiva. L'assemblea li conferì il titolo onorifico di Ghazi, vincitore. Un anno più tardi, di fronte all'avanzata delle truppe di Kemal, Mehmet VI, si imbarcò su una nave da guerra britannica e fuggì in esilio. Kemal divenne così l'uomo forte del paese. Riconosciuto dalle potenze europee, nel 1923 negoziò con esse un nuovo trattato di pace che sanciva la completa indipendenza della Turchia. Dopo l'ingresso dei nazionalisti a Costantinopoli, che qualche anno più tardi sarebbe stata ribattezzata a Istanbul, il 29 ottobre 1923 fu proclamata alla Repubblica di Turchia, di cui Kemal fu nominato presidente. La vittoria militare fu solo l'inizio. Rieletto presidente fino alla morte, avvenuta nel 1938, Kemal Ataturk portò avanti un programma di modernizzazione senza precedenti nella storia del mondo islamico. La sua parola d'ordine era la completa occidentalizzazione del paese, con l'obiettivo di portarlo a un piano di parità con gli stati europei. Questo programma riprendeva in parte quello dei giovani turchi, movimento al quale Kemal aveva aderito in gioventù, ma era anche il frutto della sua esperienza personale, quella di un uomo di cultura cosmopolita, dotato di una conoscenza profonda e diretta del mondo contemporaneo. Mustafa Kemal Ataturk nacque nel 1881 a Salonico, una città greca all'epoca appartenente all'impero ottomano, caratterizzata dalla presenza di diverse comunità. Oltre ai turchi, come la famiglia di Kemal, vi erano greci, armeni ed ebrei. Il padre di Mustafa, un ufficiale dell'esercito che sarebbe morto poco più tardi, decise di far educare il figlio in una moderna scuola laica, anche se la madre avrebbe preferito mandarlo in un istituto religioso. A 12 anni, Kemal entrò in un'accademia militare. In seguito prestò servizio all'estero, diverse volte in veste di ufficiale. Approfittò del soggiorno in Francia, Austria e Germania per assimilare lo stile di vita europeo. In Bulgaria osservò che la minoranza turca si dedicava al commercio e che le donne non indossavano il velo, risultando indistinguibili da quelle di altre culture. Si chiese così perché i turchi dell'impero non potessero fare lo stesso. Appena salì al potere, fece dell'occidentalizzazione della Turchia la priorità della sua politica, sintetizzando le sue idee con queste parole. Se rifiutate di entrare con risolutezza nella vita moderna, se respingete gli obblighi che essa vi impone, vi ritroverete emarginati come dei lebrosi, isolati nella vostra ostinazione, con le vostre abitudini di altri tempi. Restate voi stessi, ma imparate a prendere dall'Occidente ciò che è indispensabile a ogni popolo evoluto. Lasciate entrare nella vostra vita la scienza e le nuove idee. Se non lo fate, ne verrete divorati. Ai suoi occhi, il grande ostacolo a questa politica era costituito dalla religione islamica. Kemal era un ammiratore della rivoluzione francese, soprattutto per il modo in cui era riuscita a liberarsi dall'influenza della religione sullo Stato. Per questo motivo, tentò di realizzare una rivoluzione simile nel suo paese. Nel 1923, permise a un cugino del sultano deposto di mantenere il titolo puramente religioso di califo, ma l'anno successivo abolì il califato, una decisione che scosse profondamente tutto il mondo islamico. Secondo Kemal, infatti, la religione doveva restare una questione privata, ma tale idea andava in direzione opposta alla tradizione islamica, che sosteneva che essa dovesse dominare lo spazio pubblico. Una delle riforme più audaci di Kemal riguardò lo status giuridico delle donne. Durante i suoi viaggi in Europa, Ataturk poteva ammirare il comportamento indipendente delle donne occidentali, che contrastava con l'isolamento e la subordinazione di cui erano vittime le donne nei paesi islamici. Negli appunti presi durante il suo soggiorno nella località termale tedesca di Carlsbad nel 1918, scrisse «La questione femminile deve essere affrontata con coraggio. Le donne devono riempire le loro menti di scienza e arte. Insegniamo loro la cultura e la virtù affinché possano conservare la propria dignità». Una volta salito al potere, Kemal dimostrò ampiamente questo coraggio. Nel 1926, in Turchia entrò in vigore un nuovo codice civile che aboliva il ripudio, la poligamia e il matrimonio infantile, stabilendo la parità di diritti ereditari fra uomini e donne, sebbene l'uomo rimanesse il capo famiglia e la moglie avesse bisogno del permesso del marito per lavorare fuori casa. Nell'aprile del 1930, molto prima che nella maggior parte dei paesi europei, le donne ottennero il diritto di voto. Nel febbraio del 1935, 18 donne risultarono elette al Parlamento di Ancara. Kemal volle essere di esempio e nel 1923 sposò Latife Usaki. Usaki era una donna istruita che non indossò il velo durante la cerimonia di nozze, si batteva per i diritti femminili e accompagnava il marito agli eventi ufficiali, un comportamento inusuale nella società musulmana. Dopo appena un paio di anni, i due divorziarono a causa di divergenze personali. Lo zelo modernizzatore di Kemal si estese anche all'abbigliamento. Sebbene il velo non fosse stato ufficialmente vietato nel paese, le donne iniziarono a privilegiare l'abbigliamento in stile europeo. Nel 1925, Kemal ordinò la sostituzione del tradizionale fezturco indossato dagli uomini, introdotto solo un secolo prima al posto del turbante, con il cappello occidentale. All'inizio si limitò a dare l'esempio, girando con un cappello e spiegandone i vantaggi alla gente, mentre si faceva immortalare dai fotografi della stampa. In un'occasione proclamò «La nostra nazione merita un abbigliamento civile e internazionale, e lo avrà, stivali o scarpe ai piedi, pantaloni, camicia e cravatta, giacca e gilet, e naturalmente un cappello». Al suo ritorno a Istanbul, tutti i suoi ministri lo accolsero indossando un copricapo europeo. Poco dopo, una legge rese il cappello obbligatorio per i dipendenti pubblici. La passione di Kemal per l'Occidente aveva i suoi limiti, soprattutto in ambito politico. La Nuova Repubblica era formalmente organizzata come un sistema parlamentare, ma dal 1923 il Partito Popolare Repubblicano, fondato da Kemal, agì di fatto come un partito unico, governando in modo autoritario. Nel 1930 autorizzò un partito di opposizione moderato, ma lo sciolse non appena si rese conto che stava riscuotendo un certo successo. Sciolse anche l'Associazione delle Donne, ritenendola non più necessaria, e stroncò senza pietà la ribellione kurda del 1925, che mirava a ripristinare il califato e a offrire il trono del Kurdistan a un figlio del sultano, sebbene in fondo costituisse una rivolta contro l'oppressione turca. Kemal morì nel 1938, a 57 anni, per una cirrosi causata dall'eccessivo consumo di alcol. Ataturk, il padre dei turchi, nome che aveva adottato nel 1934, era ormai diventato una figura leggendaria, il militare e politico che aveva forgiato una nazione unificata e moderna dalle ceneri di un vecchio impero multinazionale.